Rettore Aurelio Tomasetti, il significato, l'importanza di questo accordo siglato oggi con il Comune di Centola che riguarda interventi di formazione e ricerca sul turismo, sulla cultura e sull'enogastronomia. Io credo che oggi sia una giornata straordinariamente importante. L'Università esce dai campus e abbraccia il proprio territorio, la valorizzazione di quelle che sono le proprie eccellenze. Qui oggi siamo in un'eccellenza. Iniziamo un percorso serio e stabile, di carattere pluriannale, di rapporto con il Comune di Centola, teso a realizzare un percorso di formazione e di ricerca per la valorizzazione delle tipicità e delle bellezze di questo territorio, enogastronomia, turismo e quant'altro evidenziare lo spirito di accoglienza che deve caratterizzare questi territori. Io credo che questo possa rappresentare un format anche replicabile in altre realtà, in maniera tale che possa evidenziare il contributo che può dare l'Università nella formazione e lo sviluppo di questi territori.